Noi stiamo già convocando le aziende per le prime assunzioni per la settimana prossima. Ci vorranno una serie di procedure ultimative, tipo l'idoneità al servizio, alla mansione e altre piccole pratiche amministrative. Confidiamo di assumerli o dal 1 marzo o dal 16 marzo. I medici andranno nei reparti per i quali è stato fatto il concorso. Il concorso è figlio dei fabbisogni espressi dalle aziende, quindi è già tutto chiaro nella storia del concorso. Consideriamo già ragguardevole il numero che abbiamo raggiunto. Il benchmark che abbiamo preso sono i concorsi andati deserti, ovvero con 5 partecipanti su 39 posti, come è accaduto in altre regioni. Quello che abbiamo accolto con soddisfazione è il fatto di aver normalizzato un settore che fino allo scorso anno, per effetto di una serie di scelte non appropriatissime, fatte intorno al 2018, 2019 e 2020, è stato fortemente depoperato. Due sono state le cose fondamentali. Rendere chiaro subito il percorso, quindi declinare già dalla prima delibera i tempi di esecuzione delle prove e assumersi la responsabilità di dire entro quanto si sarebbe concluso. Noi troviamo concorsi sepolti banditi 2, 3, 4, 5 anni fa, quindi questo, e il fatto che i concorsi siano stati a tempo indeterminato. Oltre alla facilitazione di poter assumere lo specializzando, che si vede già inserito all'interno di un contesto lavorativo stabile, che rappresenta una garanzia straordinaria. Sì, oggi abbiamo dimostrato che quello che dicevamo era vero. Quando abbiamo assunto i medici cubani, ne sono arrivati altri 98, proprio qualche giorno fa, abbiamo detto che non avrebbero tolto un posto di lavoro a medici italiani. Infatti i concorsi li abbiamo svolti con ancora più determinazione e devo dire con un successo che pochi si aspettavano, perché l'ultimo concorso, quello di Catanzaro, ha avuto degli esiti molto positivi, molto più positivi degli esiti che stanno avendo i concorsi nelle altre regioni. Vorrei segnalare che tra i cubani e i medici assunti nell'ultimo anno attraverso concorsi a tempo indeterminato, in Calabria sono stati assunti più o meno 500 medici, non solo in quante altre regioni si possa dire la stessa cosa. Quindi sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto sul fronte del reclutamento, continueremo su questa strada. Sono felice anche di aver potuto presentare il nuovo commissario dell'Azienda Zero, che rappresenta un'autentica eccellenza, una risorsa importantissima per il sistema sanitario regionale. si occupava fino a qualche giorno fa presso la presidenza del Consiglio di Sanità e della digitalizzazione della sanità a grandi capacità organizzative, amministrative, sono quelle che ci vogliono per riprendere il cammino che abbiamo tracciato quando abbiamo istituito Azienda Zero, per dare la possibilità ai direttori generali delle aziende, ai commissari, di occuparsi del loro core, della loro attività principale, che è quella di erogare salute, di realizzare i livelli essenziali di assistenza. Azienda Zero invece si occuperà di tutte le questioni amministrative. In questi due anni abbiamo ricostruito la contabilità di un sistema sanitario che veniva raccontato come un sistema sanitario della contabilità orale. Oggi siamo determinati a intervenire sui livelli essenziali di assistenza, migliorando i livelli essenziali di assistenza, quindi significa migliorando le prestazioni in termini di salute che il sistema deve dare ai cittadini calabresi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.